Musica Musica Martedì della seconda settimana di Pasqua. Vorrei fermarmi oggi sul testo della prima lettura. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti, è il testo degli Atti degli Apostoli, aveva un cuore solo e un'anima sola. Non considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù. E tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, di tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi e case, li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. E' sicuramente una visione della comunità cristiana molto idilliaca. Probabilmente un tratto disegnato dall'autore del testo degli Atti degli Apostoli, più per indicare dove la comunità cristiana si sarebbe dovuta dirigere, che non in realtà dove quella comunità si trovava. Ora, nella storia della Chiesa, sicuramente ci sono stati tanti tentativi di congregazioni religiose, di comunità, di consacrati, di consacrate, di laici, di realizzare questo ideale di vita. E in molte circostanze sicuramente questo ideale è stato raggiunto. In tante altre, bisogna avere il coraggio di dire la verità, questo ideale è naufragato. Sicuramente la Chiesa, attraverso la tanta carità che vive in tutte le parti del mondo e anche nella nostra realtà in questo momento, la grande attenzione ai poveri che le nostre caritas stanno dimostrando nei confronti di coloro che maggiormente ne hanno bisogno. E dovremo sicuramente pensare che questo sarà necessario ancora di più nei mesi prossimi. Viviamo e cerchiamo di vivere questa comunione dei beni. Ma una comunione dei beni che è sempre imperfetta, di fronte a questo ideale che il libro degli Atti degli Apostoli delinea in maniera così chiara. Ma al di là delle parole e al di là dell'esperienza della Chiesa e delle comunità cristiane, io credo che questo testo in questo tempo ci chieda di fare una riflessione sulla destinazione dei beni della Terra. Sì, perché i beni della Terra sono donati a tutta l'umanità. Non si può dire assolutamente che i beni della Terra possono essere e debbano essere proprietà esclusiva di alcuni. Qualcuno pensa a questo punto alle teorie che hanno contrassegnato una determinata ideologia. Ma lungi da me un voler ripercorrere quelle strade, vorrei ripercorrere le strade evangeliche, le strade di questo testo del libro degli Atti, che sicuramente ci chiede di vivere una comunione di beni. Ora, nella liturgia che Papa Francesco ha vissuto la sera in cui ha dato la benedizione a quella piazza vuota di San Pietro e quelle parole che hanno commentato la situazione dei discepoli nella barca in un mare in tempesta, mi fanno riflettere ancora una volta che siamo tutti nella stessa barca. E oggi più che mai abbiamo capito che una malattia, un virus, ci fa rendere conto quanto siamo nella stessa barca. Se galleggiamo, galleggiamo insieme. Se affondiamo, affondiamo insieme. Ora, in questi giorni, in queste ultime settimane, sempre più si vedono segni, segnali, non di una ricerca di comprensione di una verità, ma si vedono segni di una capacità di divisione e di una capacità che gli uomini del nostro tempo hanno di rincorrersi sempre per trovare le colpe di chi può, in qualche modo, essere origine di tanto male, ma soprattutto nel non essere capaci di trovare rimedi comuni. La globalizzazione, che forse ci aveva insegnato a vivere in maniera molto più interdipendente per tante situazioni e per tante vicende, ci avrebbe dovuto insegnare come la globalizzazione di una malattia richiede una risposta globalizzata di difesa contro questa malattia e di rimedi anche economici per tutti quelli che purtroppo ne pagano le conseguenze. Guardo al mondo, guardo alla pianeta e mi accorgo sempre più di quanta fatica fa questo pianeta ad accorgersi della realtà vicina. Guardo all'Europa e mi accorgo che quei tre uomini e quei tre statisti di ispirazione cattolica che avevano dato origine a questa idea bellissima di un continente che si unisce superando secoli e secoli di nemicizie e di guerre, naufraga in maniera quasi sconcertante, non riuscendo a trovare il bandolo della matassa, non riuscendo a trovare veramente le strade che possono ridare certezze e sicurezze agli uomini che devono vivere un po' più in solidarietà e un po' più in verità. Forse dovremmo ripercorrere, e qui ci aiuta la pagina del Vangelo con il proseguio del discorso con Nicodemo che dice sempre a Nicodemo dovete rinascere dall'alto. dovete rinascere, cioè, da una visione nuova della realtà. Potremmo dire per i credenti da una visione di Dio che è amore, che è comunione, ma potremmo dire per i non credenti da una visione che si chiama solidarietà, che si chiama fratellanza universale, che si chiama veramente una disponibilità a rimettersi in discussione. Quella ricerca di cui parlevamo ieri di Nicodemo, un uomo, sia ancora la ricerca di un'umanità che purtroppo vive un po' smarrita in questo tempo. Che questo abbraccio fraterno di questa icona tra Pietro e Andrea i simboli della Chiesa di Oriente e della Chiesa di Occidente ci sia di aiuto e di intercessione. Perché il mondo trovi le strade di una vera unità, di una vera fraternità, di una vera pace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.